Ciao a tutti! In questo video voglio parlarvi di una splendida idea regalo per questo Natale. Si tratta delle Jewel Candle. Eccole qui, queste sono candele speciali perché all'interno contengono un prezioso gioiello. Quindi oggi vi parlerò di che cosa sono le Jewel Candle e quanti e quali tipi di candele troverete nel sito, come creare un packaging, quindi una scatola che creeremo insieme per contenere la candela e regalarla in modo personalizzato, vi mostrerò che cosa ho trovato io nella mia Jewel Candle e infine ci sarà un regalo per voi, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine per scoprire la vostra sorpresa. Questo è il sito Jewel Candle. Come vedete ci sono tantissime candele dai profumi spettacolari e potete scegliere anche la forma tra classic e sweet earth. Quello che trovate all'interno si può anch'esso decidere, scegliendo tra anello, orecchini o pendente. Ricordate che troverete un gioiello in ogni candela che acquistate. L'estrazione del gioiello dalla candela è molto semplice e lo vedremo insieme tra poco. Trovate come sempre le misure sul mio blog. Seguendole, realizzate un packaging per la versione classic delle Jewel Candle. Dopo aver creato il modello su un cartoncino da 250 grammi, prendiamo le sagome delle curve. le ritagliamo e le riportiamo sulla base. Quindi ritagliamo tutto. Marchiamo le linee di piega e pieghiamo la scatola. Cancelliamo le eventuali tracce di matita con una gomma. Ora decoriamo il tutto con una bella carta di Natale. Applichiamo poi il biadesivo sulle linguette inferiori. e chiudiamo la scatola. sovrapponendo la parte frontale. inseriamo l'augurio e le decorazioni. inseriamo l'augurio e le decorazioni. e abbiamo terminato. Ed ecco il nostro packaging! questa bellissima scatolina con cui potete regalare le Jewel Candle a qualcuno personalizzando appunto la scatola. Ma per chi fosse curiosa di vedere che cosa c'è all'interno e come funziona l'estrazione del gioiello, adesso vi mostrerò che cosa contiene la mia candela. Bene, innanzitutto accendiamo la candela e godiamoci il suo profumo meraviglioso. È delicato ma avvolgente, si sente in tutta la casa. Dopo molte ore, questa candela infatti ha lentissima consumazione, siamo pronti ad estrarre il gioiello, che è posizionato strategicamente all'inizio. dopo averlo estratto, lo possiamo scartare. L'involucro lo protegge perfettamente. Ed ecco il mio gioiello in argento! Bene, avete visto che meraviglia di gioiello ho trovato dentro la mia Jewel Candle e quanto è facile estrarre il nostro prezioso regalo. Ma adesso, come promesso, il vostro regalo. Infatti, inserendo il codice che leggete in sovraimpressione sul sito Jewel Candle, avrete diritto ad uno sconto del 20%, fino al 20 dicembre. Quindi, fossi in voi, non mi perderei l'occasione di fare uno stupitoso e graditissimo regalo. Spero di esservi stata utile. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!